Salve a tutti, me lo avete richiesto in tanti, eccovi finalmente i quiz del concorso STEM Sbagliata qui la data, vi chiedo scusa, non è del 6 mattina, poi lo correggerò Relativo alla classe di concorso A026 Prima di iniziare vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina E mi fa sempre piacere che mi scrivete i vostri commenti, mi dite cosa ne pensate qui sotto al video Correggo manualmente la data che è del 2 luglio, eccola qua E passiamo subito allo svolgimento della traccia Ricordo, dato che anche per le tracce A028 qualcuno di voi mi ha fatto la stessa osservazione Che il numero delle tracce non corrisponde Vi ricordo che il mio numero 1 potrebbe essere diverso dal vostro numero 1 Leggiamo subito la domanda Vi è uno spazio riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali XYZ, quindi 3D Sia A all'insieme definito tra le seguenti condizioni X4 più Y4 più Z4 meno o uguale di 4 X maggiore o uguale di 0, Y maggiore o uguale di 0, Z maggiore di 0 Qual è il volume di A? Allora, il fatto che X, Y e Z siano positivi Essenzialmente ci fa capire che stiamo prendendo tutti i semiassi positivi E quindi stiamo in una regione di spazio che essenzialmente potrebbe essere un ottavo Vado a prendere solo lo spicchio la parte positiva Dopodiché vado a rivedere l'equazione generica di una sfera Che è X4 più Y4 più Z4 più αX più βY più αZ più Δ uguale a 0 Essenzialmente α, β e γ sono 0 la sfera a centro nell'origine degli assi Il raggio è la radice quadrata di α4 quarti più β4 quarti Più β4 quarti sicuramente me ne sono dimenticato Non scrivere più α4 quarti meno Δ quarti Δ in questo caso è il nostro 4 Porto il quarto al primo membro e diventa negativo Lo moltiplico per meno diventa positivo Meno per meno è più Radice di 4 e il raggio è 2 Quindi noi abbiamo solo uno spicchio del volume Quindi un ottavo Il volume è un ottavo del volume della sfera Quindi di 4 terzi π Il raggio al cubo quindi 2 al cubo 1 e 8 si semplifica e qui rimane 2 2 e 2 al cubo si semplifica e diventa 2 al quadrato 2 alla seconda e quindi diventa 4 terzi π E basta Questo è il volume dello spicchio di cubo Spero che tutti riusciate a immaginare che di questo cubo Noi stiamo prendendo solo uno spicchio che è quello positivo Quindi è solo un ottavo Un ottavo di sfera Ah dato che molti me l'avete chiesto Mi dite quanto è difficile secondo te questo esercizio Beh se questo esercizio è non troppo difficile Se vi ricordate diciamo come si trova il volume della sfera E l'equazione della sfera In teoria diciamo che se ci ragionate un po' Non è molto difficile Però è pure vero che avete poco tempo a disposizione Ma ne ho visti di molti più difficili Poi mi dite quello che ne pensate Io gli do da 0 a 10 una difficoltà Che può essere poco più della sufficienza Andiamo a leggere Di un insieme di dati quantitativi Si conoscono media aritmetica M Mediana M grande Un singolo dato A Si sa che è superiore al novantesimo percentile Quale di seguente affermazione è vera? Proviamo adesso a immaginare una curva di dati Asimmetrica positiva Quindi è una curva di questo tipo I dati che raggiungono subito valori molto alti Però poi che mediamente tendono a essere valori molto più bassi Allora sicuramente avremo che la mediana più o meno si troverà qui In questo caso la moda potrebbe Scusate questa è la mediana La media potrebbe trovarsi molto 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 più spostata a destra E sappiamo che in una curva costiana standardizzata Il novantesimo percentile corrisponde al Diciamo qui ho 90 e qui ho 10 della curva Quindi mi ritroverò con una curva Con il novantesimo percentile ovviamente molto spostato a destra In questo caso che cosa sta accadendo A diventerà certamente maggiore della mediana Però ovviamente questo sempre Perché la mediana si trova perfettamente Diciamo è il valore centrale dei dati E il novantesimo percentile Il cinquantesimo percentile è la mediana Il novantesimo si troverà per forza a destra Però abbiamo visto come ad esempio In una distribuzione asimmetrica Come la media si possa trovare molto a di destra della mediana E quindi paradossalmente potrebbe anche trovarsi Oltre il novantesimo percentile Quindi A per forza anche per definizione di mediana Si trova alla sua destra ed è maggiore della mediana Ma potrà anche essere minore della media Io non andrei per niente a leggere le altre risposte Difficoltà? Beh per me questa è molto difficile Faccio anche fatica anche a spiegarla Diciamo voto 8 Bisogna conoscere molto bene O comunque bene la statistica Andiamo avanti Internet è una risorsa molto importante Per la didattica delle scienze Indicare quale delle seguenti affermazioni Caratterizza internet E nei video di preparazione a concorso Questa tematica è stata ampiamente affrontata Sicuramente non è una rete di comunicazione Che esiste solo tra le università Non fa parte dei servizi offerti Da siti di commercio elettronico Perché ce ne sono tanti I servizi offerti da aziende tecnologiche Per rete sociale assolutamente no Può essere solo questa Internet è una rete di telecomunicazione Di accesso pubblico Che connette vari dispositivi o terminali In tutto il mondo E quindi può anche essere In questo senso considerato Una rete delle reti Che è distribuita Su scala ovviamente mondiale Leggiamo il quesito Si considera il grafico della funzione f di x Uguale e elevato alla meno mezzo x più 1 E effettuiamo una simmetria di questo grafico Rispetto alla bisettrice del secondo e quarto quadrante Otteniamo il grafico di quale delle seguenti funzioni Ok partiamo da qui sopra Allora sappiamo che dobbiamo fare una simmetria Rispetto alla bisettrice del secondo e quarto quadrante Quindi la retta di relazione y uguale meno x Andiamolo a graficare nel piano cartesiano xy Se prendiamo un punto a In questo caso il punto simmetrico sarà a primo In linea di massima possiamo dire che Dopo la simmetria X primo avrà coordinata meno y E y primo avrà coordinata meno x La nostra funzione di partenza è E elevato alla meno un mezzo x più 1 Quindi f di x è y Andiamoci a scrivere meno x E al posto della x Andiamo a sostituire meno y Quindi e elevato all'un mezzo y Quindi cerchiamoci adesso il valore della funzione Passiamo per i logaritmi Per la proprietà dei logaritmi L'esponente lo possiamo scrivere bene Del logaritmo E troviamo logaritmo meno x E' uguale a un mezzo y Logaritmo e Logaritmo naturale di e Portando questo termine al primo membro Ho una differenza logaritmo di meno x Meno logaritmo di e Quindi logaritmo di meno x Fratto logaritmo di e Moltiplico tutto per 2 Ed ecco ho trovato la risposta Questa cosa graficamente non è difficile Algebricamente scusate ma aritmicamente Non è estremamente difficile Comunque Certo bisogna ricordarsi bene Le simmetrie delle funzioni E in particolare la simmetria rispetto alla bisettrice Seconda e quarto quadrante E tutto sommato Boh Questo non mi è sembrato difficilissimo L'esercizio Do Voto 6,5 Fatemi sapere voi che ne pensate Io vi ringrazio E ci Se non ve l'ho detto prima Segnatevi Iscrivetevi al canale Perché può essere molto utile Per rimanere aggiornati Fatemi sapere che cosa ne pensate Un caro saluto da Francesco Samani Per rimanere aggiornati Per rimanere aggiornati